Oggi abbiamo ancora con noi Luigi Caratelli. Ci parlerà ancora di archeologia biblica e sono sicuro che ci aiuterà a credere ancora di più alla sacra parola di Dio, la sacra Bibbia. Benvenuto Luigi a Credere Oggi, a te la parola. Ci stiamo occupando di Bibbia e archeologia. Abbiamo visto come in ambienti scientifici, in alcuni ambienti scientifici, la Bibbia non abbia molta credibilità, soprattutto si contesta l'attendibilità storica e scientifica della Bibbia e noi possiamo dire con sicurezza che la Bibbia non ha pretesi di essere né un libro di storia né un libro di scienze, però lì dove essa parla di scienza, dove parla di storia, le moderne ricerche confermano le affermazioni fatte. Ecco, noi siamo partiti cercando di rintracciare una prima civiltà che abbia dato origine a tutte le altre e abbiamo scoperto come le moderne ricerche illuminano come un faro l'Armenia o la Turchia sud-centrale come luogo d'origine di una prima civiltà nel Neolitico. Qualche studioso è rimasto sconcertato, è rimasto affascinato per il fatto che tutte le forme di una prima civiltà spuntano in quella zona, in quella porzione di terra. Oggi noi parleremmo dell'Armenia o del Kurdistan, ma forse è interessante notare che la Bibbia millenni fa parlava di quella stessa zona come la zona di Aratta, dove si fermò l'Arca di Noè in seguito a un grande cataclisma, il diluvio. E proprio di questo cataclisma vorremmo parlare oggi per poi approdare più avanti in altre trasmissioni all'argomento dell'Arca di Noè. Ma veramente, come dice la Bibbia, c'è stato un diluvio, una catastrofe così grande e veramente possiamo ancora pensare noi oggi a un barcone che, sballottato dalle acque, si sia poi fermato da qualche parte e da lì, in quella zona geografica, i sopravvissuti abbiano dato origine a una nuova civiltà? Vediamo cosa ci dice la scienza e che cosa ci dice la Bibbia. Se la Bibbia ha ragione, allora noi dovremmo trovare tracce, forse non pretendiamo prove assolute, di un diluvio e di un'arca sepolta da qualche parte. Forse stiamo sognando, incominciamo la nostra avventura e vediamo via via che cosa scopriremo. Secondo gli scritti biblici l'arca si sarebbe fermata nella zona evidenziata dal nostro tondino rosso, la zona dell'Armenia appunto del Kurdistan che anticamente veniva appunto chiamata Aratta. Parleremo ancora di Aratta e delle sue origini. La Bibbia dice chiaramente che il diluvio fu una cosa eccezionale, le acque salirono fino alle alte montagne, quindi potremmo quasi già in apertura, considerando le scoperte di Leonard Wally nel 1929, che il diluvio da lui scoperto e annunciato come tale alle stampe in quel periodo non era il diluvio della Bibbia. Scoprì un diluvio probabilmente causato da una grande inondazione, molto frequente come evento meteorologico in quelle zone nel passato, ma l'inondazione purtroppo fu disastrosa senz'altro, ma purtroppo raggiungeva soltanto i 700 chilometri in lunghezza e i 200 chilometri in larghezza. Queste misure ci farebbero pensare, dai rilevamenti stratografici ne abbiamo la certezza, per esempio ha un manto acquoso alto appena 9 metri, insomma appena appena avrebbe sfiorato le colline circostanti la zona lì evidenziata, mentre la Bibbia dice che le acque raggiunsero le più alte montagne e anche se vogliamo parlare di colline di qualche centinaio di metri il diluvio di Wally non può essere considerato il diluvio della Bibbia. Se la Bibbia ha ragione, le prove dovrebbero essere non soltanto in Mesopotamia ma in tutte le regioni del mondo. Se un diluvio c'è stato quali tracce dovremmo trovare? Bene, praticamente depositi sedimentari di grandi estensioni, non localizzati in alcuni posti e ristretti. Per esempio potremmo trovare, dovremmo trovare modificazioni geologiche su vasta scala, ma ancora dovremmo trovare testimonianze del seppellimento di piante e di animali, quindi dei fossili. Ebbene, noi sappiamo che la scienza oggi conferma che i tre quarti delle terre emerse sono coperti di depositi sedimentari, i depositi sedimentari sono strati di roccia che si sono formati per accumulo di detriti o di altri materiali. Il più celebre di questi è il Grand Canyon del Colorado. Ecco, lo vediamo in alcune immagini e il paleontologo Jean Fleury ci dice che il carattere peculiare di questi sedimenti, qui abbiamo un esempio di sedimenti, è somigliante, si assomiglia per ampiezza e per diffusione. Praticamente questi sedimenti noi li ritroviamo non soltanto in Colorado, ma in quasi tutte le zone del nostro pianeta. Si individuano gli stessi strati su quasi tutta la superficie del globo. Altri strati che noi consideriamo, che ci fanno pensare a un accumulo di detriti di ampie dimensioni, sono per esempio le bianche scogliere di Dover, che vedete qui alle nostre spalle. Ecco, anche in questo caso questo strato si trova non soltanto lì in Inghilterra, ma si trova in Francia come continuazione, si trova in Germania, in Scandinavia, in Polonia, arriva praticamente in Russia e poi continuerebbe, se noi potessimo unire i continenti, e continua, perché queste sono le prove geologiche, in America, nell'America del Nord, nel Texas, in Alabama, nell'Arizona e in altre nazioni, addirittura anche in Australia. Quindi come vedete si può dire che questi sedimenti, che sono tutti, per usare un termine scientifico, di pietra arenaria glauconitica, sono simili in tutti i posti geografici che vi ho elencati, quindi vuol dire che in tutti questi posti deve essere avvenuto lo stesso fenomeno nella stessa epoca. Noi abbiamo parlato anche di modificazioni geologiche, se un diluvio universale c'è stato dovremmo trovare tracce di modificazioni geologiche su ampia scala. Ebbene, se esaminiamo le stratificazioni, allora noi possiamo, stratificazioni della terra, possiamo dire di camminare su un cimitero. Le profondità della terra sono veramente un cimitero, raccolgono fossili di animali di diverso genere e in ogni strato noi troviamo fossili di flora e di fauna. Prendiamo in esame un altro strato geologico, quello dell'antica pietra arenaria rossa di Inghilterra. Sono 25 mila chilometri quadrati e contiene questo strato un gran numero di fossili, soprattutto di pesci. Ebbene, nel 1860 un avventuriero, uno scopritore, Hugh Muller, disse quanto segue, in questo periodo della nostra storia una terribile catastrofe ha distrutto improvvisamente una grande quantità di pesci. Per una estensione di 160 chilometri. Il corpo di questi pesci è contorto, con tratto ricurvo e la loro coda, in molti casi, è ripiegata in direzione della testa, praticamente come se questi pesci fossero morti per convulsione, le loro branchie sono enormemente aperte e quindi fossero praticamente stati ricoperti da qualcosa di enorme. Ebbene, depositi simili si trovano in tutte le parti del mondo. Noi vediamo nella immagine alle nostre spalle un pesce che addirittura stava facendo colazione, è rimasto con il fossile di un altro pesce in bocca. Questo testimonia il fatto che i fossili ritrovati parlano da soli in favore di una catastrofe improvvisa, tremenda, che ha ricoperto la vita esistente e l'ha fossilizzata. ce l'ha consegnata così come una istantanea, come una diapositiva, ma ci racconta di una tremenda, tragica realtà. Arriviamo ora ad un reperto incredibile, è il caso di dire incredibile, il famoso martello di Glen Rose. È un martello incastonato ancora in una roccia, in un deposito sedimentario, è un martello trovato in un strato databile, secondo gli scienziati, 140 milioni di anni fa, ossia dove non esistevano gli uomini e questo ha sconcertato gli stessi ritrovatori, gli stessi scienziati. Come fa ad esserci un martello in uno strato che è databile 140 milioni di anni fa? Ma non è solo questa la sorpresa. Il martello è stato analizzato dal Somerville County Museum, è stato ritrovato a Glen Rose, il capoluogo della contea Somerville nel Texas, e il dottor Buch del Creation Evidences Museum ha in mano i risultati dell'analisi di questo martello. e l'analisi evidenziavano una pietrificazione cristallina all'esterno del manico di questo martello, mentre all'interno esattamente il contrario, una porosità trasformata in carbone. Ossia sembra che questo reperto abbia subito in rapida successione eventi atmosferici di segno opposto, acqua e fuoco, quindi carbonizzazione e cristallizzazione. Ebbene, lo studioso in questione, lo studioso che abbiamo nominato, il BOG, dice che questa combinazione è inspiegabile scientificamente. Devono essersi verificate, cito testualmente, contemporaneamente o in rapida successione, due processi totalmente diversi. Le analisi effettuate ci dicono ancora qualcosa di molto importante e forse questa è la cosa più bella di questo reperto. Ossia la testa del martello è risultata essere di un metallo assolutamente puro. Le analisi effettuate al prestigioso istituto di metallurgia del Battle Memorial Laboratory hanno dato questi risultati. è un laboratorio al di sopra di un sospetto, si trova a Columbus, nell'Ohio. Ebbene, la testa del martello, secondo le analisi di questo laboratorio, consta di questi elementi con queste percentuali. Ferro al 96%, cloro al 2,6% e zolfo nella percentuale dello 0,74. Cosa significa questo? Significa che coloro che hanno fabbricato questo martello vengono da un altro pianeta. Infatti, scherzosamente alcuni studiosi dicono che questo martello non dovrebbe neppure esistere, è un martello da extraterrestri. Per quale motivo? Perché con i metodi di fabbricazione del metallo nei laboratori moderni non è possibile evitare, per esempio, inclusioni, alterazioni di silicio di carbonio. Qualunque prodotto metallurgico avrà sempre comunque delle alterazioni, delle impurità. Bene, questo martello non ha nessuna impurità, è metallo puro, ferro praticamente quasi puro. Che cosa significa tutto questo? Ebbene, dobbiamo ipotizzare che il martello sia stato costruito in un ambiente completamente stagno. Che cosa dobbiamo pensare allora di fronte a questo martello? Bene, visto che non è stato costruito con le situazioni ambientali di oggi, dobbiamo ipotizzare per forza situazioni ambientali, meteorologiche completamente diverse. E qualche scienziato ha ipotizzato questo tipo di situazioni, pensando per esempio a un'atmosfera di due atmosfere di pressione rispetto a luna che abbiamo oggi. E nel contempo, nel contempo, questo scienziato ha pensato, per esempio, questi scienziati hanno pensato, sono diversi, poi vi citerò i nomi, a una schermatura dai raggi ultravioletti del sole. Cioè la nostra terra praticamente avrebbe dovuto avere, se fosse stata abitata da personaggi che hanno avuto in mente di costruire questo martello, avrebbe dovuto avere due atmosfere di pressione e sarebbe dovuta essere schermata dai raggi ultravioletti del sole da una specie di protezione. Ecco, nella grafica possiamo sintetizzare quali potevano essere queste condizioni prediluviane. Per esempio la terra poteva avere il suo asse non inclinato come lo ha oggi, ma perpendicolare e i raggi del sole avrebbero colpito la terra con un'angolazione diversa da quella odierna e avrebbero diffuso su tutta la faccia della terra una specie di primavera eterna. Noi oggi abbiamo il susseguirsi delle stagioni proprio per il fatto che la terra ha il suo asse inclinato e i raggi del sole, come vedete nella prima diapositiva, vanno a colpire la terra con una inclinazione particolare nei diversi momenti dell'anno. Ma se l'asse della terra fosse stato dritto noi avremmo potuto avere una continua eterna primavera. Forse è proprio quello che diceva la Bibbia, lo dice ancora, ed è forse una strada da percorrere molto interessante. Un testo del Genesi dice che Dio, per esempio, non aveva fatto ancora piovere sulla terra, quindi i prediluviani probabilmente non conoscevano la pioggia. Voi direte, lo dice soltanto la Bibbia, certo, per ora seguiamo queste piste e vediamo se la scienza può dare una conferma, anche solo per ipotesi. Un altro testo biblico dice che l'acqua non proveniva dal cielo, dalle piogge, ma da un vapore che saliva dalla terra e che adacquava la superficie della terra. Questa è una condizione della meteorologia prediluviana indicata dalla Bibbia. Ma vediamo ancora altro. Per esempio parlavamo di raggi del sole ultravioletti che sarebbero stati impediti nel loro avanzare verso la terra da qualche schermo particolare. Noi oggi abbiamo una tempesta continua di raggi solari che, come vedremo più avanti, sono nocivi per la nostra salute, per la nostra vita. Ma alcuni scienziati, Patton ed altri, hanno ipotizzato che la terra prima del diluvio fosse praticamente schermata da una spessa coltre di vapore acqueo. Ma forse è proprio quello che in termini scientifici oggi dicono gli scienziati mutuando invece parole di un testo antico che si esprimeva, forse nella stessa maniera, ma non in termini scientifici. Il testo che abbiamo alle spalle ci parla di un Dio creatore che nel creare le acque separa queste acque mandandone alcune al di sopra di una distesa e altre lasciandole al di sotto di questa distesa. Separò le acque con una distesa, acque che sono sotto la distesa, acque che sono sopra la distesa. È molto interessante notare che la parola distesa in ebraico equivale alla nostra parola atmosfera. Quindi dalla Bibbia possiamo, logicamente traducendo correttamente i termini, ipotizzare che anticamente l'atmosfera separava le acque sulla terra da acque al di sopra di essa. Sopra l'atmosfera è possibile che ci fossero anticamente delle acque, una cortina di vapore acqueo che appunto schermava la terra dai raggi del sole. Ecco perché allora sarebbe stato possibile produrre quel martello con quella purezza. Avremmo potuto avere a quel tempo due pressioni di atmosfera e nessun problema con i raggi ultravioletti del sole, perché le condizioni della terra prima del diluvio, così come le spiega la Bibbia, erano molto diverse dalle condizioni della nostra terra attuale. Probabilmente, come dicono gli studiosi Waldman ed altri, questo vapore acqueo aveva una funzione molto importante per la vita sulla terra. Praticamente noi avremmo potuto vivere in una temperatura calda e uniforme grazie a questo schermo di vapore acqueo. L'umidità sarebbe stata elevata e quindi questa sarebbe stata la causa del gigantismo. Le piante sarebbero potute crescere fino a livelli altissimi, proprio grazie a queste condizioni climatiche. Avremmo avuto una pressione atmosferica più alta, quello che dicevamo prima. E poi il clima tropicale che noi avremmo avuto con queste condizioni contribuiva proprio esso al gigantismo, non solo delle piante ma anche degli animali e quindi probabilmente anche degli esseri umani. Gli animali, noi lo abbiamo come prova scientifica, raggiungevano almeno i dinosauri altezze incredibili. Per esempio il Seismosaurus poteva alzare la testa fino a 25 metri di altezza. Perché vi dico questo? Perché gli scienziati si sono sempre chiesti come facevano questi enormi animali, questi mastodonti che avevano una capacità polmonare molto ridotta, questo è stato visto dai test fatti appunto sui vari ritrovamenti, come facevano questi mastodonti con una capacità polmonare molto ridotta a ossigenare i loro profondi tessuti cellulari. Ebbene dei test portati avanti da gruppi di scienziati hanno dimostrato, hanno stabilito che a due atmosfere di pressione, quelle che ipotizzavamo perché si potesse costruire un martello con quella purezza, a due atmosfere di pressione l'intero plasma sanguigno diventa saturo di ossigeno e quindi non c'è bisogno di una grande capacità polmonare, era già il clima adatto per una respirazione adatta alla vita. Con queste condizioni climatiche non solo si poteva vivere fino a mille anni, ma per esempio l'uomo poteva correre senza stancarsi per 320 chilometri prima di magari tirare il fiato. Sono condizioni completamente diverse da quelle odierne. Ebbene la scoperta fatta da questi scienziati, soprattutto ebraici, è che i raggi duri del sole incidono proprio sull'invecchiamento dell'essere umano. Sono i raggi duri del sole che influiscono sui delicati meccanismi del nostro corpo e sono i raggi duri del sole che ci permettono di invecchiare velocemente e precocemente. Ecco forse perché la Bibbia quando parla di età antidiluviane parla di 700, 800, 900 anni. Se la terra fosse stata schermata dai raggi duri del sole, ebbene noi avremmo potuto raggiungere quelle età. Questo è quello che dicono gli scienziati, poi logicamente è tutto ancora da verificare, da scoprire, ma è anche interessante notare che quando la Bibbia, continuando a parlare di età, soprattutto delle età post-diluviane, dimezza proprio la durata dell'età. I primi uomini dopo il diluvio non vivono più 700, 600, 900 anni, ma 300 anni e poi via via scalare fino a quando un autore biblico dirà i più fortunati arrivano a 80 anni. Forse, forse al diluvio quella cappa di vapore acqueo è piombata sulla Terra. Oggi possiamo ancora, il satellite Christa Spass per esempio in epoche molto vicine a noi aveva trovato del vapore acqueo intorno alla Terra senza che gli scienziati potessero capire da dove fosse venuto questo vapore acqueo. Sono tracce di un'antica cortina di vapore che schermava e proteggeva la Terra dai raggi ultravioletti del sole, quelli che dopo il diluvio ci stanno consumando fino a farci ridurre uomini e donne decrepiti che vivono appena, dice il messaggio biblico, 80 anni. Ritorniamo al messaggio biblico leggendo un testo sempre dal libro del Genesi, capitolo 7, versetti 11 e 12. È detto che piove sulla Terra per 40 giorni e 40 notti. Beh, un po' poco per creare un diluvio universale. Ma il testo dice ancora che praticamente nel versetto precedente, in quello stesso giorno, quello stesso mese, quello stesso anno, per usare il linguaggio biblico, le fonti del grande abisso, tutte le fonti del grande abisso, per grande abisso si intende le viscere della Terra, scoppiarono e le cateratte del cielo si aprirono. Abbiamo qui due elementi che potrebbero farci capire che cosa la Bibbia intende per diluvio universale e forse potrebbe portare noi, uomini ormai avvezzi alle informazioni, alle spiegazioni scientifiche, a comprendere come potrebbe essersi veramente prodotto un diluvio universale. Quindi il testo ci diceva che le fonti del grande abisso esplosero e le cateratte del cielo si aprirono. Bene, gli scienziati hanno scoperto, perché ancora oggi è possibile notare questo, che i depositi di acqua nelle viscere della Terra, compressi, schiacciati nelle viscere della Terra con una pressione molto forte, possono essere esplosi. Ora, poi per quale motivo lo possiamo anche vedere e possiamo fare delle ipotesi, ma un'esplosione, una fuoriuscita di questi depositi di acqua nel viscere della Terra avrebbe creato una reazione a catena e probabilmente anche del vulcanismo. Quindi i vulcani si sarebbero mossi e sarebbero entrati in attività e avrebbero praticamente proiettato verso il cielo una grande quantità di detriti fino a toccare gli strati alti dell'atmosfera e probabilmente fino a toccare quella cortina di vapore acqueo e a fonderla, a scioglierla, se usiamo un termine non scientifico ma abbastanza rappresentativo di quello che voglio dire, facendola piombare sulla Terra. È stata l'acqua con la pressurizzazione potente e violenta a esplodere, a spaccare la crosta terrestre e a permettere che detriti scagliati con violenza, con potenza di migliaia di bombe simili a quella di Hiroshima, raggiungessero appunto gli strati alti dell'atmosfera e ripeto questa cappa protettiva che da quel momento in poi crollando sulla Terra non ha più potuto proteggere nessuno, anzi è stata essa stessa insieme alle fonti dell'abisso la causa di questa grandissima inondazione. Per 40 giorni e 40 notti le fonti dell'abisso e la cortina di vapore acqueo in una specie di compressione a doppia direzione hanno avvolto la Terra in un cataclisma d'acqua. Poi per altri centinaia di giorni, dice la Bibbia, ha continuato a piovere una leggera pioggerellina ma insomma noi potremmo, se seguiamo questi scienziati e le loro ipotesi, immaginare veramente un grande cataclisma e non soltanto locale. Le stesse dorsali atlantiche, questa frattura che avvolge la Terra come una specie di cucitura simile a una cucitura di una palla di baseball, ebbene questa frattura che allontana i continenti è una frattura che avvolge l'intera Terra. Forse da quella frattura, all'inizio minima, poi allargatasi, vedi, deriva dei continenti, le fonti dell'abisso hanno allontanato le terre emerse e notiamo infatti un sconvolgimento duplice nel fondale marino, una massa che crea le dorsali atlantiche e sulla Terra una massa che spinta verso l'alto crea le alte grandi catene montuose e le catene montuose sono speculari rispetto alla frattura della dorsale atlantica, come se in effetti questa forza che ha allontanato i continenti abbia trovato degli ostacoli e abbia poi spinto verso l'alto le masse terrestri fino a creare le alte catene montagnose. Questo è quello che dicono gli scienziati come ipotesi di un possibile diluvio, che sia stata una catastrofe immane, lo testimoniano per esempio i cimiteri dove fossili di animali diversi tra loro e ipoteticamente esistenti in continenti diversi invece si trovano tutti riuniti insieme in fosse comuni, in tutte le zone geografiche del mondo, quindi un ammasso di esseri viventi scaraventati da una forza immane su tutta la superficie terrestre. Quando quest'acqua, questa potenza dell'acqua ha trovato degli sfoghi qui e là ha prodotto, come dicevamo all'inizio, queste stratificazioni, questi canaloni, questi canyon. Qui vedete un esempio di quello che può fare una forza come quella dell'acqua in pressione. Un simile disegno è stato prodotto da un incidente occorso diversi anni fa in una turbina di pressurizzazione. Il condotto era di cemento armato e l'acqua che in quel momento è fuoriuscita con una grande enorme potenza ha scavato in pochissimi minuti le pareti di cemento armato di questo condotto, un po' quello che dovrebbe aver fatto l'acqua in questo caso sulla crosta terrestre creando diversi canaloni, diversi canyon. Ma che cosa avrebbe potuto produrre uno sconvolgimento di questo genere? Una pioggerellina? Non di certo. Uno scienziato ha ipotizzato per esempio il passaggio di Marte accanto alla Terra in un periodo della storia, circa qualche migliaio di anni prima di Cristo. Noi non siamo sicuri che sia avvenuto proprio questo. L'astronomia ci dice che è avvenuto, ma non siamo sicuri che sia stato questo fenomeno all'origine del diluvio. Altri scienziati parlano per esempio di un impatto meteorico, di un asteroide che ha colpito la crosta della Terra permettendo all'acqua in pressione nelle viscere della Terra di fuoriuscire e quindi di creare a catena tutti i fenomeni di cui abbiamo parlato finora, compreso praticamente la glaciazione che gli scienziati testimoniano di essere avvenuta proprio nel periodo in cui la Bibbia dovrebbe collogare il diluvio a seguito di un cataclisma. Ebbene una meteora che avrebbe colpito la Terra avrebbe spostato l'asse della stessa Terra della gradazione della percentuale che siamo soliti riscontrare oggi. Un'altra prova, anche se ancora prove sicure non ce ne sono, ma prove occultate sì, dovrebbe del fatto che il diluvio abbia sepolto animali, piante e esseri umani sono proprio i fossili che testimoniano proprio di un gigantismo che ormai non esiste più. Sia gli animali sia le piante trovate fossilizzate negli strati della Terra testimoniano appunto di un passato in cui queste strutture vitali erano molto alte, ma anche gli esseri umani dovevano essere molto più alti. Allora perché non sono stati trovati fossili di esseri umani alti, enormi? Beh non è vero, diciamo fossili di esseri umani più alti di quelli di oggi sono stati trovati e il problema è che non sempre queste scoperte vengono portate all'attenzione del grande pubblico. Per il semplice fatto che gli studiosi non riuscendo a catalogare il reperto, a collocarlo nel tempo, lo lasciano nei magazzini, come è avvenuto per esempio alla Smithsonian Institute, quindi uno dei più grandi musei dell'antichità sulla faccia della Terra, che ha accumulato nei suoi magazzini, vediamo qui nella diapositiva alle mie spalle, per esempio i resoconti dall'Ottocento in poi di scienziati e anche di personaggi delle varie contee, responsabili dei vari contee che hanno trovato scheletri di uomini alti veramente più del normale. Se si tiene conto che erano gli antenati degli indiani d'America ed erano uomini alti fino a tre metri, allora dobbiamo dire che veramente in un tempo lontano le condizioni sulla Terra erano molto diverse da quelle di oggi e qualche cosa ha spazzato via, quell'antica civiltà, quella Terra che oggi non esiste più. In conclusione un'altra prova a favore del diluvio potrebbero essere i più di 600 racconti sparsi sulla faccia della Terra che provengono da diverse civiltà proprio che è testimonio di un diluvio avvenuto. 200 di questi praticamente dicono più o meno le stesse cose della Bibbia. Com'è possibile allora che persone, civiltà sparse sulla faccia della Terra lontane tra esse in tempi e in luoghi abbiano invece tutti raccolto una testimonianza su una catastrofe? Praticamente il 95% di questi racconti parla di un diluvio universale e non locale. Un altro 95% di una catastrofe di un unico diluvio, quindi non di molti diluvi avvenuti nella storia. L'88% di questi racconti parla di una famiglia eletta che si è salvata dalla catastrofe. Il 75% assegna agli animali una parte importante in questo racconto. Il 70% di questi racconti ci informa che i sopravvissuti sono sopravvissuti grazie a una barca. Il 57% degli stessi racconti ci dice che quei sopravvissuti si sono salvati approdando su una montagna. Infine il 33% di questi racconti ci dice che gli uccelli furono mandati in ricognizione dal personaggio salvato, sì che da cultura a cultura varia come nome, Noè, Utnapishtim, Ziusudra, ma ci dicono questi racconti che il personaggio salvato si mandò un uccello in ricognizione. Ebbene, noi non abbiamo prove certe che un diluvio sia accaduto, abbiamo delle testimonianze, dei reperti che potrebbero far pensare a ognuno di noi che la Bibbia quando racconta di un cataclisma straordinario chiamato diluvio non raccontasse delle sciocchezze e non fosse mitologia, ma fosse storia e scienza. Le scoperte moderne tendono ad avvalorare, non a distruggere il racconto biblico. Ma se un diluvio c'è stato e oggi abbiamo visto alcune possibili prove di esso, allora noi dovremmo anche poter pensare ad una barca, ad un'arca con la quale alcuni sopravvissuti, approdando su una montagna, hanno poi dato origine alla nuova civiltà come noi la conosciamo oggi. Che cosa dicono le scoperte in questo senso? La Bibbia è sicura. Nel paese di Aratta, sui monti di Aratta, l'arca è approdata. Riusciremo a trovarne le vestigia? Seguiteci e lo vedremo insieme. Grazie a tutti.